E dunque è arrivata l'ufficialità, tra poco la firma sul contratto, c'è solo un piccolo particolare da animare, ma la Juventus ha acquistato il più forte centrocampista del pianeta. Stiamo parlando di Arnold Lang, un giocatore straordinario, statunitense, che è stato votato il giocatore col tiro più potente del mondo, più forte addirittura anche del tiro di Roberto Carlos. Il giocatore gioca prevalentemente col piede destro, ma sa giocare bene anche col sinistro. Ottima visuale di gioco e nazionale statunitense. Il giocatore sul contratto praticamente prenderà pochissimo e questa è la vera capacità della Juve. Resta soltanto un piccolo nodo, un piccolo nodo che in quel modo ostacola la trattativa, ma che sicuramente potranno cercare di sviluppare successivamente. L'unico problema appunto per far sì che il contratto diventi ufficiale al 100% è che Arnold Lang non esiste nel mondo reale ed è un giocatore virtuale del gioco libero grande, ma stiamo valutando anche questi dettagli per cercare di portare questa trattativa in porto. Qui la foto di Arnold Lang, come vedete, giocatore vicinissimo alla Juve. Ovviamente vi ho preso in giro, vi ho preso in giro, questo è un video scherzo, per giocare un po' anche io al calciomercato, visto che il calciomercato ultimamente sembra che tutti prendano tutti, ma peccato che le squadre in questo momento non si stanno muovendo per vari problemi che conosciamo tutti. Quindi ho voluto giocare anch'io con una news finta di mercato e qui adesso non resta che salutarvi, dove appunto vi vedo con il prossimo video del canale. Ciao a tutti!